Ciao a tutti, nuovo video, questo sarà il primo di una serie o di un paio di video che registrerò sulle mie vacanze a Praga, io ho documentato tutta la mia esperienza attraverso Instagram perché non mi era possibile fare dei vlog o dei video su cui mettere un voiceover poi a casa perché ormai ho soltanto il cellulare come mezzo di ripresa video, siccome la batteria non mi durava nemmeno tutto il giorno per fare delle foto, figuriamoci se fossi anche messa a registrare dei video e poi sarei comunque stata impossibilitata a scaricarli per poterne fare altri il giorno dopo e in sostanza non sarei riuscita comunque a fare un lavoro che mi sarebbe piaciuto avrei voluto tanto poter fare dei vlog o comunque appunto questi video prima di tutto per ricordo e ancora di più mi è dispiaciuto quando appunto documentando tutta la mia esperienza su Instagram avete incominciato a scrivermi se tornate a casa avrei messo un video sul canale anche a coloro a cui ho spiegato che non mi era possibile fare un vlog o delle riprese da montare successivamente mi è stato comunque chiesto di raccontare della mia esperienza mi ha fatto tanto piacere ricevere i DM che mi avete scritto nei giorni in cui sono stata a Praga perché mi avete detto che ero la vostra piccola Piero Angela mi avete detto che vi sembrava di stare con me in questa città a chi c'era già stato fatto rivivere le emozioni di ripercorrere alcuni luoghi di questa città stupenda e chi non c'è mai stato insomma gli è venuta voglia di visitare questa città e a questo proposito a maggior ragione ho pensato che fare un video poteva aiutare tutti coloro che desiderano visitare Praga o desidereranno visitare Praga in tempi insomma brevi per darvi qualche consiglio magari qualche chicca in base alla mia esperienza che ovviamente è quella di una turista alla prima volta nella città e solo per quattro giorni però saranno un escursus carino secondo me anche attraverso il mio semplice racconto magari lasciandovi alcune immagini affinché io possa anche raccontarvi interamente questa esperienza e poi non so magari alla fine di questi video sotto i video potete lasciarmi delle domande io magari posso fare un altro video ancora dove rispondo alle vostre curiosità su Praga magari metterò anche la casella posta in qualche storia su Instagram in modo da fare un video ancora più esaustivo nel caso non adempiesi a tutte le vostre richieste come vi dicevo io sono stata quattro giorni a Praga e penso che dividerò magari questo video in due oppure in quattro vediamo quanto ci metto raccontandovi magari che cosa ho visto giorno per giorno innanzitutto io ho preso il volo che era all'incirca febbraio ho preso il volo EasyJet da Malpensa perché da Caselle che è l'aeroporto che io in realtà ho più vicino purtroppo non c'era la possibilità di fare una mini vacanza da Torino diciamo partono soltanto da weekend a weekend e sono molto più cari di quelli con EasyJet quindi io comunque vi consiglio di fare un check di controllo questo per qualsiasi tipo di viaggio per guardare un attimo i prezzi che vi possono convenire di più noi abbiamo trovato una super offerta in realtà perché il volo d'andata costava un po' di più ma il volo di ritorno costava tipo 33 euro e in tutto io ho speso circa 70 euro a persona per il volo e poi noi abbiamo deciso di prendere un hotel decisamente fuori Praga in una zona non vicina al centro io ero un po' spaventata da questa cosa però andando per il risparmio anche perché diciamo che la parte dell'hotel è stata un regalo del mio ragazzo visto che erano i giorni del suo compleanno però è stato un suo regalo nei miei confronti per il suo compleanno e niente per risparmiare perché ovviamente in centro città si arrivava anche a 50 euro al giorno 100 euro al giorno per risparmiare invece notevolmente abbiamo preso questo hotel che io vi posso anche dire che hotel è appena fuori Praga e con mio piacere ho scoperto che Praga è assolutamente alla portata di chiunque del turista perché è collegata coi mezzi in modo straordinario io non ho viaggiato molto ma una rete di trasporti pubblici così efficienti e soprattutto così a basso prezzo e così belli anche come erano tenuti eccetera io non l'ho mai vista credo che in Italia non esista e all'estero se esiste costa molto di più di Praga a Praga c'è la corona quindi anche dirvi più di tanto i prezzi in questo momento non sono preparatissima ma appunto se una delle vostre domande più importanti lasciatemi lo scritto qua sotto cioè tipo volete sapere quanto costa un biglietto dell'autobus io rifaccio le mie ricerche, i miei calcoli ve lo dico nel video famoso magari sulle domande su Praga comunque io diciamo che prima di partire mi ero fatta anche uno studio perché qui ho il mio Midori e avevo dedicato parecchie pagine di un nuovo quadernino appunto a delle cose che adesso stanno catento però su Praga in modo da sapere insomma dove andare, come andare, perché andare cosa volevo visitare diciamo che mi sono studiata un pochino la città prima non era prettamente necessario alla fine per come si è svolta poi la vacanza però insomma non fa mai male essere minimamente preparati comunque vi dicevo ne siamo arrivati all'aeroporto dall'aeroporto abbiamo preso l'autobus che avevo cercato semplicemente con Google scrivendo dall'aeroporto di Praga al My Apollon Hotel che era l'hotel dove ho soggiornato si trovava appunto fuori dalla zona centrale la zona del mio hotel è la Zizkov ed è Praga 8 se non ricordo male perché Praga è divisa in quartieri come qualsiasi città che non sono sequenziali quindi avete tipo 6,7,8, no dalla vostra prospettiva avete 6,7,8,3,10,2 insomma vi ci va una cartina alla mano per capire insomma come si sviluppa Praga comunque io ero in Praga 8 vi posso dire una chicca in Praga 3 vivono parecchi italiani perché è una delle zone meno costose e dove si trovano più facilmente camere da condividere in stile modello universitario ecco arriviamo quindi nel primo pomeriggio e siamo appunto con i mezzi di trasporto tra cui un pullman e un tram siamo arrivati all'hotel abbiamo fatto il check-in e poi posate le valigie siamo subito ripartiti alla volta della città la receptionist dell'hotel è stata molto carina perché ci ha fornito comunque sia una mappa dei mezzi pubblici sia la mappa della città dove erano diciamo segnate anche le principali attrazioni monumentali ecco chiamiamole così al fondo anche della cartina quella diciamo politica c'era comunque una mini mappa con le principali fermate della metropolitana invece sulla cartina dei mezzi pubblici che la trovate anche su internet oltre alle quattro linee di metropolitana ovviamente c'è anche tutta la rete di tram e bus della zona le linee metropolitane sono la gialla, la verde e la rossa sono tre, mi stavo sbagliando i mezzi pubblici sono ovviamente molti di più la metropolitana non vi fa scendere esattamente davanti ai monumenti ma tipo ha un schiappo dai monumenti comunque sia abbiamo preso un tram e la metropolitana per direzione centro ovviamente siamo scesi alla fermata museum dove c'è il museo nazionale che è molto bello da vedere di sera ed è abbastanza vicino alla stazione e abbiamo poi percorso tutto un grosso vialone dove ci sono negozi abbiamo incrociato quel negozio pazzesco di giocattoli un negozio di giocattoli di una catena che non conosco perché in Italia non c'è non mi ricordo il nome di tre piani c'era una giostra all'interno per chi non avesse visto le storie ho fatto dei mini video al riguardo c'era una giostra all'interno del negozio c'era un scivolo che partiva dal terzo piano per farti arrivare al piano terra sotto c'era anche alcuni giochini una realtà virtuale e cose di questo tipo giocattoli di ogni tipo cose di supereroe adesso che è in arrivo il film degli Avengers c'erano gli Avengers in versione naturale c'erano anche gli Star Trooper c'era un enorme golem di cui parleremo poi più avanti all'entrata di questo negozio insomma io e il mio ragazzo siamo impazziti come dei bambini di due anni quando l'abbiamo visto e poi insomma siamo arrivati in prossimità della Torre delle Polveri che è il primo vero e proprio monumento che noi abbiamo incrociato tra l'altro poi nei giorni passati abbiamo anche scoperto qualche curiosità in più sui palazzi che circondavano questa torre l'epoca in cui sono stati costruiti insomma di che tipo erano questi questi altri palazzi costruiti durante il regime comunista a contrastare lo sfarzo barocco eccetera eccetera arrivati nella piazza centrale non c'è soltanto l'orologio astronomico come attrazione monumentale in realtà c'è anche la chiesa del Tin in centro della piazza che comunque era adornata festa perché si avvicina Pasqua inizia la stagione alta e purtroppo la piazza era tutta occupata sicuramente molto suggestiva da vedere anche senza questi chioschi che fanno da mangiare da bere stracostosi dove se è periodo in cui decidete di andare trovate questi questi chioschetti nella piazza principale di Praga non comprate niente lì perché tutto costa il doppio di quanto se non il triplo di quanto costa realmente lì poi magari ci arriveremo quando parleremo anche di cibo e appunto al centro della piazza c'è la statua di Jan Hus che è un importante figura all'interno della storia di Praga capo degli Ussiti che è un movimento religioso che è stato molto importante per Praga anche alcune chiese lì sono state Ussite sono Ussite eccetera eccetera c'è poi la chiesa di San Nicola comunque questa è la zona oltretutto di città vecchia della parte vecchia di Praga che è una maggiore suddivisione che a Praga sono diciamo quattro zone principali da visitare come prima visita a Praga c'è appunto Sare Mestero che corrisponde alla città vecchia poi c'è Nove Mestero che è la città nuova lo Joseph Josephov che è la parte del quartiere ebraico e poi c'è Radcani se si dice così che è la parte dove c'è il castello di Praga e poi c'è Malastrana che è tutta una parte un po' più particolare comunque di Praga dove c'è l'isola di Campa dove chi mi ha seguito nelle storie su Instagram ha visto che c'è questo muro di John Lennon c'è la piccola Torre Eiffel di Praga e altre cose di questo tipo comunque noi torniamo adesso a Praga città vecchia e dicevamo appunto c'è questi monumenti che vi ho elencato poi c'è una via una delle tante vie che dirigono appunto la piazza che è via Celenta dove si trova la casa della Madonna Nera in realtà è una piccola chicca perché questa è una casa costruita in stile cubista tant'è che c'è sotto un negozio di ceramiche in questo stile e comunque c'è questa Madonna Nera nell'angolo del palazzo che magari potrebbe passare inosservata se non non si fa troppo caso e diciamo che il primo giorno ci siamo aggirati in questa zona qua e siamo stati subito riconosciuti come italiani da un gruppo di ragazzi che lavora a Praga per un tour operator all'interno della città appunto tour turistici all'interno della città e ci hanno dato questo volantino qua io ci tengo tantissimo a parlare di questi ragazzi perché secondo me fanno un lavoro fantastico non solo perché è proprio un fantastico lavoro che fanno ma lo fanno strabene quindi è un paio di anni che esiste il tour italiano Praga io non ho avuto a che fare con nessun altro tour operator l'ultimo giorno gli azzurri una cosa del genere mi hanno dato il loro volantino e ho scoperto che c'era anche il giro della Praga magica che io ho chiesto per tutti e quattro i giorni a qualcuno se ci fosse e l'ho scoperto ovviamente l'ultimo giorno in ogni caso li trovate anche in un sito internet che è touritalianopraga.com niente ci sono dei ragazzi in piazza o nelle vie che vi possono fermare io vi dico se vi fermano ascoltateli e fatevi quantomeno dare questo volantino loro offrono diversi tour all'interno della città e non solo noi ne abbiamo fatti alcuni e ne faremo sicuramente altri la prossima volta che tornerò a Praga il primo tour che abbiamo fatto è il free tour che è un tour che c'è tutti i giorni che parte dalle 10 o da mezzogiorno è il punto di riferimento comunque di questo gruppo di tour di ragazzi che fanno questi tour davanti a Cartier sempre nella piazza centrale di Praga vecchia e comunque il primo tour che ci hanno proposto è il tour free perché non si paga potete lasciare una mancia potete lasciare il tour quando volete se non vi piace potete insomma fare un po' come volete noi ci siamo ovviamente sentiti di lasciare il pagamento del del giro perché il ragazzo che ce l'ha fatto che si chiamava Dario era super bravo ma ne parliamo poi quando arriviamo al secondo giorno in ogni caso ci hanno addescato ci hanno lasciato questo volantino abbiamo visto un po' i prezzi e cosa proponevano insomma ci siamo abbastanza convinti di voler provare quanto meno questo primo giro dopodiché noi siamo andati a bere una birra sempre in via Celenta la via che vi dicevo prima quella dove c'è la Madonna Nera però molto prima siamo andati da Usupa ve la consiglio perché è un locale intanto lo riconoscete perché almeno per quest'anno credo non so se sempre ha i tavoli fuori e anche dei legnetti impilati a confinare un po' lo spazio diciamo del loro Deor ma hanno birra artigianale all'interno buonissima e costa molto meno rispetto che comprare tipo una birra in piazza noi appunto volevamo bere qualcosa un po' tipo orario di apericena diciamo così c'erano due bar davanti cioè quattro bar mi sembra davanti alla chiesa del Tin e costava come in Italia quando comunque sapevamo che una birra lì può costare tipo massimo due euro qualcosa del genere una birra media ovviamente e niente siamo andati lì prima sono passata in una libreria proprio lì vicino a prendere una mappa che più che essermi servita era un tipo di mappa che io stavo cercando ed è un vero e proprio ricordo diciamo della città la mappa è questa qui adesso ve la faccio vedere così e questo è un mappone qua che comunque diciamo che avere una mappa è molto utile per per un turista perché le vie sono tante le cose da vedere sono tante anche piccole e concentrate a volte almeno i dettagli tipo le applicazioni artistiche di Cerny che tenevo a vederne almeno alcune di questo artista vanno cercate con una cartina è vero c'è Google Maps c'è tutto quello che volete ma alla fine la cartina alla mano io sono forse un po' vecchia mi sembra la miglior soluzione dopodiché dovevamo decidere comunque dove andare a cena il mio ragazzo ha voluto cercare lui su Google i ristoranti consigliati volevamo mangiare qualcosa di tipico e quindi siamo andati ovviamente appena arrivati una cosa che non vi ho detto è stata quella che dovevamo prelevare perché come vi ho detto prima Praga c'è la corona abbiamo cercato un unicredit che fosse sulla strada di andata siamo scesi appunto alla fermata della metropolitana Flora dove c'è un grande centro commerciale all'interno di questo centro commerciale prima di tutto c'era il negozio della Filofax o Filofax e c'erano le agendine con la copertina viola semi glitterata era la vita e l'ho lasciata lì comunque perché vabbè la mia non era il caso di spendere 50 euro per una Filofax nuova con un inserto tra l'altro che io ho comprato per quest'anno comunque sia lì c'era l'unicredit quindi il mio ragazzo ho prelevato dall'unicredit perché sicuramente il cambio della moneta parlo attraverso la propria banca conviene più che affidarsi a gli spazi appositi per i cambi moneta devo anche dirvi che vi consiglio di tenervi qualche moneta in tasca tipo non lo so un 5 euro massimo da cambiare quando siete in aeroporto per comprarvi il biglietto dell'autobus la tizia che c'era vicino alle macchinette del cambio moneta è stata simpatica come un cactus ficcato in parti del corpo che non si possono nominare su youtube perché insomma io ho migliorato nel corso degli anni il mio inglese almeno rispetto a quando sono stata a Helsinki ma non così tanto da poter assistere a un discorso fatto da una persona che parla come se fosse madrelingua io gli ho chiesto se poteva cambiarmi i soldi lei mi ha sparato una frase a una velocità impressionante con una pronuncia estremamente perfetta credo lei volesse dirmi qualcosa sul fatto che dell'indice insomma di di tassazione per il cambio moneta che comunque in aeroporto è molto alto quindi non prelevate tutti i soldi di cui avete bisogno in aeroporto e non prelevateli neanche dall'Italia per poi già usarli là perché non ne vale la pena è meglio farlo comunque là se avete unicredit secondo me è la scelta migliore io altre banche sinceramente non le ho viste in giro altre banche che ci sono ovviamente anche in Italia comunque lei poi mi ha cambiato questi soldi poi c'è la macchinetta per comprare i biglietti del pullman o comunque il chioschetto se siete di giorno dove c'è la signora che vi vende i biglietti del pullman i biglietti del pullman sono di tre tipi come vi stavo quasi per accennare prima perché ce n'è uno che dura 24 minuti uno che dura dalla mezz'ora a un'ora uno che dura 24 ore poi potete comprarne anche uno che dura due giorni oppure tre giorni dopodiché credo che si passi agli abbonamenti contate che un abbonamento a Praga costa 12 euro al mese a Torino non so voi quanto spendete di biglietti autobus ma qui un biglietto dell'autobus se non sbaglio costa 1 euro 80 adesso e lì invece tipo quello più economico mi sembra costi 24 corone che meno di un euro detto questo procediamo quello ovviamente da mezz'ora vi dicevo che dovevamo cercare abbiamo cercato appunto una banca vicino per poter prelevare abbiamo fatto un giro all'interno di questo questo centro commerciale e abbiamo mangiato un panino da McDonald's perché così su due piedi sinceramente non sapevamo avevamo fretta poi di raggiungere il centro e iniziare a vedere effettivamente qualcosa e persino il panino di McDonald's era più bello che in qualsiasi altro paese poi ho scoperto che era in particolare quello che abbiamo preso noi che veniva dato in questo cestinello con le patatine di fianco la bandierina con la M di McDonald's e non erano tutti così gli altri avevano le confezioni classiche con la scatola in ogni caso vabbè dettagli che ti fanno piacere il bagno del centro commerciale era meglio del bagno di casa mia era stupendo grandissimo pulitissimo con la cartigerica col profumo con tutto quello che ci deve essere straordinario e già lì avevo capito che tutto funzionava in realtà l'avevo già capito salendo sul tram dall'aeroporto all'hotel perché udite udite sui tram sui mezzi pubblici in generale non si parla ad alta voce per i ciechi è importante che sul pulmon ci sia silenzio e io ho visto la contrapposizione di quello che succede sui mezzi pubblici quantomeno qua a Torino non so se succede anche da voi dove salgono questa manica di ragazzini che vorresti prendere a schiaffi e chiedergli dov'è la loro madre che ti costringono ad ascoltare la trap il rap la musica da discoteca il reggaeton e tutta la M possibile della musica mondiale dalla loro cassa bluetooth che si ergono sulla spalla manco fossero usciti direttamente dagli anni 80 lì invece c'è il silenzio un silenzio ragazzi che voi non immaginate era bellissimo cioè uno può dormire può leggere può riposare la testa senza aver nessuno che grida al telefono che parla al telefono perché se parlano al telefono parlano a voce bassissima e non chiacchierano tra di loro ci stanno zitti è bellissimo è bellissimo e tutto era bellissimo finché non è salito qualcuno che aveva mangiato l'aglio a quel punto lì io quasi invidiavo i nostri pullman con il ragazzino uscito dagli anni 80 con la sua orribile musica nella cassa bluetooth comunque andando avanti tornando alla cena abbiamo deciso appunto di trasferirci al Praga 3 che è un'altra zona che in questo momento non mi ricordo più come si chiama in ogni caso abbiamo preso sempre i mezzi pubblici e siamo andati appunto in questo localino che è frequentato soltanto da da cechi non è un locale turistico e vicinissimo alla alla torre televisiva che è un'altra diciamo attrazione semi particolare perché intanto di sera è molto bella è illuminata con delle luci blu e rosse particolare non siamo abituati in Italia ad avere delle torri televisive così poi io torre televisiva mi ricordo sempre quella che c'era in Sailor Moon che sembrava la torre Eiffel comunque sopra questa torre televisiva ci sono sempre di queste applicazioni artistiche di questo artista cieco che si chiama Cerni e sono dei bambini che si arrampicano su questa torre bambini che poi si trovano simili anche sull'isola di Campa ma qui anche ci arriveremo in un altro momento siamo andati in questo locale che ho segnato qui che si chiama Ostinek U Vodouca la mia pronuncia del cieco è peggio di quella inglese comunque se scorrete tra le mie storie in evidenza su Instagram la trovate e abbiamo preso un piatto tipico che si chiama l'Old Prague Pan in cieco non me lo chiedete perché non lo so era un piatto che non mi ha entusiasmato per il sapore alla vista era molto particolare ce l'hanno portato direttamente con la pentola era comunque la cucina cieca è una cucina povera ricca di carne quindi se siete vegetariani non saprei bene come indirizzarvi sul cibo mentre facevo le mie ricerche prima di partire comunque ho visto che su internet si trovano facilmente elenchi sia di ristoranti vegetariani o che hanno alternative vegetariane vegane sia per ciliaci detto questo non è prettamente un popolo vegano perché la carne è sempre diciamo in tutte le portate e appunto abbiamo preso questo piatto che era a base di carne di maiale fagiolini cipolla noi ci siamo fatti togliere l'aglio per non puzzare come quello che era salito sul tram possibilmente poi io proprio una cosa che non sopporto con delle patate sopra ricoperte da un formaggio molto sostanzioso molto ok una particolarità che vi dico sui locali è il fatto che nei locali di Praga non so se tutta la Repubblica cieca non si paga il coperto un po' perché in realtà c'è solo il servizio al tavolo ma i tavoli non sono apparecchiati non c'è mai la tovaglia con le posate il tovagliolo di stoffa c'è sempre tipo un cestino con dentro le posate i tovaglioli di carta e dovete fare tutto voi un po' perché è proprio una cosa loro tipica ma il servizio viene pagato diciamo tra virgolette volontariamente nel senso che dovreste sempre calcolare di lasciare nel momento in cui andate a pagare il 10% di quello che avete speso in alcuni locali ve lo chiedono proprio esplicitamente cioè vogliono che voi lasciate questo 10% in altri locali vi chiedono se desiderate lasciare qualcosa e potete decidere se lasciare il 10% se arrotondare sul totale che vi hanno fatto non lo so per esempio avete speso 370 corone potete arrotondare a 400 non è obbligatorio ovviamente buona educazione lasciarlo proprio perché non c'è già integro nel menù come c'è da noi contate che si spende pochissimo per mangiare quindi è una cosa che anche i più poveri come me possono tranquillamente fare io credo che il giorno che ho speso di più per mangiare avrò speso tipo 18 euro però mediamente a passo spendevamo 16 euro a testa che è niente ragazzi per quello c'è chi ha visto le mie foto su instagram sa che ho mangiato dei veri piattoni non sono mai uscita con la fame dai locali non ho mai avuto fame tipo verso mezzanotte luna cose così e per quello che ti davano ho compreso il bere ovviamente poi io ho spesso preso l'acqua più che la birra perché la birra negli ultimi anni non mi va più tanto sono quasi diventata stemia tra diete e cose varie e l'acqua costa un po' di più della birra è uno di quei paesi dove l'acqua diciamo è quasi l'acqua in bottiglia è un lusso diciamo così in ogni caso veramente si spende pochissimo per mangiare quindi non dovete preoccuparvi più di tanto internet è ricco di risorse di locali che potete scegliere e anche locali veramente carini tipici simpatici come quello di cui vi racconterò per quanto riguarda la taverna medievale davvero è una città secondo me a portata di vacanza anche di chi insomma non naviga nell'oro eccetera eccetera fate conto che io ovviamente come vi ho detto all'inizio del video non ho pagato l'hotel se avessi pagato anche l'hotel penso che in tutto avrei speso massimo 250 euro viaggio compreso così io ho speso circa 200 euro per mangiare e col volo quindi e ovviamente qualche sfizio ma da nulla che mi sono mi sono tolta quindi fate conto che in questo prezzo togliete i 70 euro del volo quello che rimane è stato usato per mangiare per fare i tour che abbiamo fatto praticamente ogni giorno dopo il primo giorno e per appunto qualche sfizio a caso in questo modo qua quindi vi rendete conto che è veramente una vacanza una meta insomma che può essere la portata dei più non stiamo parlando dell'America o della Scandinavia che purtroppo è cara anche se sono anche quelle vacanze da sogno io desideravo andare a Praga tipo da 10 anni non c'è un motivo specifico non ho ancora scoperto cosa ancora adesso che sono tornata mi attrae così tanto forse ho vissuto in un altro momento non lo so so che le emozioni sono state forti e so che queste emozioni le ha lasciate a tantissime persone che l'hanno visitata un po' come se tanti di noi o comunque delle persone che mi hanno scritto nei giorni in cui ero a Praga appartenessero a Praga è stata la prima volta che io ho desiderato addirittura comprarmi una maglietta con scritto il nome della città io non ho mai capito quelli che vanno in giro con la borsa con scritto Roma le magliette con scritto New York o altre cose del genere io ho desiderato dal primo momento che l'ho vista a Praga University è troppo carrina e niente io direi di concludere il primo video qui dicendovi che dopo la cena siamo semplicemente tornati in metro in pulma in hotel e siamo morti in posizione distesa e poi riapro il video con la colazione del secondo giorno ciao ciao